Dopo il trionfo sul campo di Oxer arriva anche il momento per l'orgoglio del sud di celebrare il primo storico titolo di campione di Francia. Le strade del centro della città al confine con la Spagna sono state riempite da decine di migliaia di tifosi in estasi pronti a celebrare i ragazzi di René Girard. La prima vittoria del club fondato nel 19 è stata quindi accolta con gioia da abitanti e simpatizzanti del club che nonostante le guffate mediatiche è riuscita a impedire la rimonta del pesge di Ancelotti.